Napoli è una città cosmopolita, ricca di storia, sempre in bilico tra modernità e tradizione. La street art è una nuova primavera napoletana, fatta di creatività, arte e bellezza. Insieme passeggeremo per il centro storico, per ammirare un museo a cielo aperto. Le opere sono ovunque, sui muri, sulle cabine telefoniche o anche ex edifici diventati oasi di street art. Oggi è una forma di arte apprezzata e molti artisti si fanno portavoce di tematiche importanti, come le opere di Eduardo Cassaldo, che attraverso questa forma d'arte racconta fatti di cronaca. Ma non mancano i miti partenopei, come Santo Maradona, contanto di Aureola, o Pino Daniele, con la sua inseparabile chitarra. Una forma d'arte non esclusivamente maschile, durante il percorso non mancherà la visita ai personaggi alati di Zilda. E alla coppia San Gennaro e Caravaggio, che come due amici in piazza sono uniti ad un Super Santos, nati dalla creatività di Rocks in the Box. Le tecniche utilizzate sono diverse, dalla bomboletta spray, come il meraviglioso San Gennaro, che dà il benvenuto nel quartiere Forcella, alla preparazione del disegno su carta, come lo strepitoso lavoro, Madonna con pistola, di uno degli artisti più chiacchierati al mondo, Banksy. A veri e propri capolavori di pop art, come l'omaggio a Ribera, realizzato da Fabrizio Scala. Un viaggio che inizia con Bloom, che ha arricchito la città di personaggi famosi, intitolando il progetto L'arte San Notale. E termina con Alice Pasquini, che ci invita al silenzio, ricordandoci la fugacità della nostra epoca, dove niente perdura e tutto fugge. Vi aspettiamo, ciao!